colori napoletani, pretendenti anche a quest'anno a lotteria edizione 2014. Partiti! Rey Robin Thore, alle pecere con Rockefeller Dino, parte alla grande dalla seconda fila, Raoul Braid, corre al comando vecchione con il suo Rey Robin Thore e siamo al completamento della piegata e anche del lancio, il lancio da parte di Rey Robin Thore in 14,7 e ora lunga fila indiana, in terza posizione il favorito Ribot e K. Di fronte Rey Robin Thore, Rockefeller, Ribot e K. I 400 se ne vanno in 29,6. Fuori corsa Rally Regal, cavalli che affrontano ora la seconda curva. Ora amministra il vantaggio e gradua il leader e completa i 600 iniziali in 45,3. Si affaccia il Varenne di Cicognani, però rimane ancora al salchi di Rockefeller Dino. Il completamento è la piegata, mezzo miglio iniziale in 1,2 e ora Ribot e K gradatamente va sul leader e si trascina a Revelle Bar. Ora Ribot insiste e sta passando 16,2 il primo chilometro. Ha avuto problemi la leva di Minopoli, Revelle Bar. E ora il favorito a dettare i tempi. 1,93 in chiusura per il Varenne di Cicognani. 15,1 impiegata, si viaggi intorno all'1,17 e mezzo. Penultimo rettilineo. Non ci sono variazioni sostanziali. Frazione redditizia in 14,3 di fronte. Ne rimangono in quattro. Ribot, Re-Robin, Torro, Rockefeller e Raul che si affaccia. Si va al miglio. 1,59,6 ora. E viene via la grande e l'allievo del francesino, Raul Braid. Completamento è la curva finale. Raul Braid aggredisce Ribot. Lo appariglia. Lotta tra i due. Incertissima la lotta. La lotta è incertissima. I cavalli sono in zona traguardo. Ribot e K. Si salva. Io 2,28,4 sul mio cronometro. Del primo piano, finalmente, di quest'ennesimo Varenne, plasmato alla grande da Glauco Cicognani, che si salva da un Raul Braid che ha fatto un corsone. 5,7,3,1,93. Un Varenne plasmato a dovere è finalmente oggi rivisto in condizioni smaglianti.